Con prudenza Malvagio, Marina di Pisa subito in vantaggio attaccata da Manolete lungo la corda MyNameAS, Marina al comando, Manolete cerca posto in corda, MyNameAS che prova a chiudere lo spazio, poi all'esterno Nextgil, terzo in corda, Nuvolari Gradda, ancora Macua De Greppi e Malvagio. Prima curva, 200 iniziali in 14.4 sul micronometro, i cavalli stanno completando la piegata di destra e si presentano ora al passaggio di fronte alle tribune, Marina e Manolete in coppia in avanti, poi MyName nextgil, ancora Nuvolari Gradda e Macua De Greppi e i 600 iniziali vanno via in 47. Marina di Pisa, Manolete a largo, MyName nextgil, Nuvolari e Macua, Malvagio in coda al gruppo. Ritmo tutto sommato abbastanza tranquillo per la categoria, 1.2 gli 800 iniziali. Completata anche la penultima curva all'imbocco della retta opposta alle tribune, Marina e Manolete, MyName nextgil, dal fondo cerca di risalire Malvagio, il primo chilometro in 1.17, io ho 14.17 per l'ultima frazione, con Marina di Pisa che aumenta la cadenza sotto la spinta di Manolete, di dentro MyName in difficoltà, sopravanzata da Nuvolari, terza per nextgil, centropista c'è Malvagio, 1.31 e mezzo, i tre quarti di miglio, Marina al comando, Manolete a largo, Malvagio in terza, poi Nuvolari, nextgil, terza per Macua De Reppi, partita apertissima ancora all'ingresso della retta di arrivo, Marina, Manolete, Malvagio a centropista, più a largo Macua, di dentro Nuvolari, Malvagio al ciglio esterno che attacca, poi Nuvolari che filtra lungo lo steccato e sul palo, ancora Nuvolari, potrebbe essere Nuvolari il vincitore, Malvagio al ciglio esterno, i due molto vicini, poi Macua, Manolete, rivediamola, il cameraman sceglie Malvagio, la sua sensazione quindi evidentemente è che ce l'abbia fatta Malvagio, io mi sono sbilanciato su Nuvolari, vediamo chi ha ragione, ma questo testimonia della difficoltà di questo arrivo, è una partita aperta fra me e il cameraman, beh io direi Nuvolari, io direi Nuvolari però aspettiamo l'esito dell'ordine d'arrivo, intanto ecco che suona la sirena quindi c'è l'ordine d'arrivo che è sub iudice per cui aspettiamo di avere anche il trisma dell'ufficialità per quest'ordine d'arrivo, io mi sento di dire che l'ordine d'arrivo ufficioso è Nuvolari al primo, Malvagio al secondo, Macua al terzo, Manolete al quarto, Marina di Pisa al quinto, questo è quello ufficioso però c'è intervento d'autorità della giuria per cui aspettiamo e vedremo.